buongiorno a tutti vi ruberò solo pochi minuti perché siamo presi tutti quanti da mille cose e poi perché so anche al limite non riuscite a vedere il video perché è troppo lungo niente volevo dirvi voglio intanto ringraziarvi tutti i nostri cari clienti perché anche quest'anno siamo cresciuti grazie a voi abbiamo avuto la possibilità di di crescere come sia come squadra che anche come tutto il lavoro che c'è da fare ampliando anche il nostro lavoro su altre province fuori di questa e quest'anno come direte siete cresciuti non ci portate neanche un omaggino quest'anno abbiamo deciso di due cose la prima non fare omaggi perché abbiamo voluto una parte della diciamo di di questa di questa spesa che avevamo per devolvere alle popolazioni alluvionate e comunità alluvionate una parte di questo importo che andava e dall'altra parte perché abbiamo una bellissima sorpresa per voi questa primavera per cui restate sintonizzati sui nostri siti e vedrete cosa ci si farà questa primavera che sarà una sorpresa per tutti voi i nostri clienti non vi dico altro se non voglio augurarvi un buonissimo natale buone feste a tutti voi ai vostri cari e ci sentiamo e ci vediamo sempre qui nella nostra sede di santa giustina e a sua volta nelle vostre aziende quando veniamo a trovarli buon natale